Effetto vela nelle recinzioni. Impariamo a conoscere cos'è e a cercare di evitarlo. Ciao a tutti, sono Marco di Fanshop e oggi parleremo appunto dell'effetto vela nelle recinzioni. Che cos'è, come si crea, come evitarlo e qualche curiosità. Cos'è l'effetto vela? L'effetto vela non è nient'altro che la resistenza che crea la recinzione a contatto col vento. Qualche aspetto molto semplice. Più metri quadri abbiamo di superficie di recinzione coperta, più l'effetto vela sarà importante. Più la maglia della nostra recinzione sarà stretta, più l'effetto vela sarà forte. Vediamo nello specifico, con qualche immagine che arriverà qua di fianco a me, alcune motivazioni per cui si crea l'effetto vela. Appunto, la prima, teli ombreggianti. I teli ombreggianti sono deleteri per le recinzioni e per l'effetto vela. Più te lo c'è, più è grande, più è alto e più tenderà ad abbattere la nostra recinzione. Un altro aspetto importante perché si crea l'effetto vela è l'incuria, nel senso che le piante arrampicanti che si arrampicano appunto sulla recinzione e a lungo andare creano una parete dove il vento ovviamente spinge e fa forza. Il terzo aspetto importante è appunto, come ho detto prima, è le maglie troppo piccole, quindi sappiate che più è andata a stringere la maglia e ovviamente più ci sarà effetto vela. Andiamo a sfatare quattro luoghi comuni che ci sono sull'effetto vela della recinzione. Ho qui in mano due ombreggianti. Il primo è l'entrata di gamma, il più economico, modello soleado nello specifico, copre circa l'80%. Il secondo è il top di gamma, quindi un ombreggiante molto più fitto, molto più robusto e anche più costoso. Una cliente l'altro giorno mi ha detto ma allora io scelgo quello più economico perché fa molta meno vela rispetto a questo. Non è vero, non è vero. I teleombreggianti fanno vela tutti. È chiaro che questo avendo un pochino più di spazio tra una maglia e l'altra fa passare un pochino più l'aria, ma sono cose impercettibili. Il colpo di vento la batterebbe comunque, quindi non cambia nulla da un modello all'altra. Posizionato l'ombreggiante su una recinzione sappiate che fa questo effetto. Il secondo luogo comune è questo. Ma sì, metto un ombreggiante, cosa potrà mai succedere? Vi distrugge la recinzione, semplicemente. Un effetto vela importante piega i pali, piega le strutture, può fare danni a cose o persone, quindi attenzione. Terzo luogo comune, la leggo bene così non si strappa. È vero, rimarrà bellissima e attaccata alla recinzione ma vi abbatterà i pali, quindi vi tirerà giù i pali, proprio li piega. Quarto luogo comune è, ma sì, ho una maglia larga così, una recinzione sportiva, cosa succederà mai? Io vi posso garantire per esperienza, purtroppo non ho la foto da mostrarvi, ma in un lavoro qua nella valle dove siamo noi abbiamo realizzato, abbiamo cambiato una recinzione sportiva, nello caso specifico c'era proprio questa rete. Stiamo parlando di una rete con una maglia 45x45 mm, quindi insomma abbastanza grande, con un filo da 2 mm, quindi neanche troppo spesso. Il problema è che questa recinzione era alta 8 metri, era su una parete abbastanza importante di circa 50 metri, immaginate quanti metri quadri di questa rete c'era, la direzione del vento in quel caso è stata proprio giusta per poterla piegare, benissimo, ha piegato dei pali rastremati, non so se avete presente, sono quei pali della luce che partono grossi finiscono piccoli, tendenzialmente sono molto robusti, li ha piegati come se fossero della plastica, come se non esistessero, eppure la rete, guardate che roba, è una rete che tutto sommato sembra che faccia passare aria, non è vero, non sottovalutate questo effetto, filo su filo per tantissimi metri quadri fa una forza incredibile. Bene, concludiamo per cercare di capire come si può evitare l'effetto vela, tutto questo discorso non è per dirvi non comprate ombreggianti assolutamente è vietato, no, ci sono dei modi per poter aggirare del problema, il mio obiettivo è semplicemente quello di mettervi in guardia su quello che potrebbe succedere se non si usano delle accortezze. Quali sono? Allora, la prima forse è scontata, ma evitare il più possibile teli coprenti nelle recensioni e soprattutto nelle recensioni alte. Stiamo parlando di una recensione alta un metro, potrebbe andare bene. Una recensione già due metri tutta coperta può già creare dei problemi. Se poi andiamo a coprirla in altezza di 3, 4, 5, 6 metri come qualche cliente mi ha chiesto, attenzione, è quasi matematico che la recensione vi cadrà. Il secondo aspetto per risolvere questo problema è utilizzare dei pali robusti o meglio fare una valutazione a monte se il palo che voi avete già magari, perché ce l'avete già posato, può reggere questa forza tenendo presente appunto come ho detto prima di non sottovalutarla. Se avete un classico paletto a T, beh insomma non esagerate, è un paletto a T con dei limiti. Un palo tondo già ha delle caratteristiche diverse, una putrella quindi ad H ha delle caratteristiche totalmente diverse, quindi fate la valutazione del palo che avete, se non ce l'avete e lo dovete acquistare valutate di comprarlo piuttosto più robusto per evitare appunto che si pieghi nel tempo. Il terzo aspetto per evitare che una recensione caschi giù per l'effetto vela è quello di settare i pali al contrario. Mi spiego meglio. Noi abbiamo una recensione in questo senso, facciamo finta dal mio viso all'obiettivo della telecamera. La setta andrebbe messa per così, quindi nel senso dove noi camminiamo. Capisco che questo è terribile, perché vi trovate un motivo di inciampo, perché è brutto esteticamente. È vero, sta comparendo una foto qua di fianco a me. Questa è una recensione che noi abbiamo realizzato a Mondo Juve, a Vinovo, quando ancora ci giocava la prima squadra. Volevano per forza una paretina in altezza di 8 metri, vado a memoria, tutta coperta con l'obbreggiante. Siamo stati costretti, per motivi proprio ingegneristici di calcolo, a controsaettare con quei saettoni che vedete diagonali la recensione per evitare che cascasse. Quarto consiglio per evitare che una recensione caschi è quella di tenerla pulita dalle sarpaie, quindi edera, piante rampicanti, tutte queste piante qua a lungo andare creano anche qui una parete. Quinto consiglio, rendere la recensione sollevabile. Guardate questa foto, questo è un campo da softball che abbiamo realizzato, dove appunto la rete poteva creare effetto vela. Cosa è successo? Abbiamo aggirato il problema dicendo possiamo rendere, grazie delle carrucole posizionate in punta ad ogni palo, possiamo rendere la recensione sollevabile oppure possiamo farla scendere. Vi spiego meglio, c'è una partita in corso, si può con mezz'ora di lavoro tirare su tutta la rete appunto per poter giocare, al momento della partita quando è finita si può tirare giù ed evitare per tutto l'arco della giornata o del periodo in cui non si gioca di evitare appunto l'effetto vela. Sesto e ultimo consiglio è quello di appendere l'eventuale tela ombreggiante solo nella parte superiore, quindi facciamo finta se io lo leggo solo nella parte alta e mi rimane appenzoloni nella parte bassa, cosa succede? Che quando arriva il vento questo si solleva e può favorire il passaggio del vento. Non è il massimo come sistema, perché? Perché innanzitutto per far stare la rete giù un pochino tirata bisognerà appesantirla nella parte bassa, a tal proposito si possono utilizzare delle corde piombate per tenerla appunto tirata. Il secondo aspetto importante è che se il vento tira dalla parte contraria, cioè non dalla parte dietro la rete che me la alza così come sto facendo, ma da questa parte dove c'è la rete non ho risolto il problema perché la forza c'è comunque. Bene questo video è terminato, spero di avervi aiutato a farvi capire il concetto dell'effetto vela. Ripeto è un concetto molto sottovalutato, da noi tantissimi clienti li accogliamo facendo per tante volte le solite parole per cercare proprio di farglielo entrare in testa, perché veramente è una cosa che finché non si prova non si capisce e si tende a sottovalutare. Spero di esservi stato utile, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare qualche commento se avete qualcosa da dire, qualche consiglio, suggerimento a riguardo e visitare i nostri siti www.reteplastic.it per il nostro sito istituzionale e www.fanshop.eu per il nostro e-commerce. Grazie alla prossima, ciao!